E' un partice, se questo non è l'amore... Grandi appuntamenti con la musica ad Arezzo e provincia dal 15 novembre al 18 dicembre 2012. Un festival promosso da Arezzo, città del Vasari, all'insegna della sperimentazione che coniugherà la melodia del 300 toscano con il tango d'autore, la musica popolare con quella contemporanea. Saranno presenti inoltre artisti come Peppe Servillo, Ambrocio Sparagna, il duo Lavag e il giornalista Giovanni Minoli all'interno di significativi luoghi della città come le chiese e le scuole dove i concerti saranno ad ingresso gratuito, i teatri, il circolo artistico e la serra eventi della residenza Cade Frati. Vorrei partire dalla musica nelle chiese, straordinario, due concetti straordinari. Uno il 14 dicembre nella chiesa della Santissima Annunziata. Ascolteremo la musica fatta dagli Orientis Partibus, la musica che si suonava e si cantava all'epoca di Spinello Aretino. Noi ogni anno chiudiamo il festival con il concerto di Natale. Volevamo anche quest'anno testimoniare il nostro ringraziamento ai parroci che ci mettono a disposizione le chiese. Fuori dalle chiese facciamo musica assolutamente diversa. Il progetto Tangent in Tango, progetto di tango d'autore, lo faremo tra il Salone delle Feste del Circolo Artistico di Arezzo e il meraviglioso Teatro Settocendesco di Andiari. Sarà una serata, a mio parere, molto interessante. Grazie a tutti.